Giovanni Lanni Carlo Lorenzo Calma, calma Fucci Gabriele Luca Mezzani Tommaso Del Rosso Nicolò Smailaio Federici Francesco Michele Berrusi Lorenzo Longhi Leonardo Grosso Andrea Monticelli Delico Peccani Orsino Leonardo Davide Peternardini Giovanni Lanni Amato Nicolò Gallo Lorenzo Filippo Fugnetto Di Paolo Manco Malacarne Mattel Camagliere Forza Borsau Come? Forza Borsau Sì eh? Scusa, non è venuto a vorrei Dai, dai Dai, dai Dai, dai Dai Grazie Dai, dai Dai Vai Cappelli Alberto San Mignato Antonio Farmesti San Mignato Guglielmo San Mignato San Mignato Filippo Rigati San Mignato Riccardo Martinali San Mignato Camarri Francesco San Mignato Che squadra? Che non si ha capito? San Mignato Pomo Uschimale Più forza San Mignato San Mignato Siena ragazza Forza, San Mignato forte San Mignato San Mignato Il Monterigione Jacopo Golia, Ritano Diego, Stasso Dimitri, Gianluca Maci, Gabriele Albanese, Simone Muretto La squadra è... Invicta! Invicta! Lorenzo Bastianelli! Aspetta, aspetta! Vai! Mister Brocci! Lorenzo Massai! Tommaso Innocente! Claudio Schietti! Filippo Sbardellato! Edoardo Festi! Iuri Festi! Matteo Paci! Matteo Fabriino! Alessio Devorzo! Brocci Goffredo! Mattia Giunti! Giorgio Pagno! Diego Mazzoli! Bianchi Marco! Lorenzo Bastianelli! Sgaravizzi Nicolò! Lorenzo Valentini! Polonia Soma! Ferricioli Filippo! Questa è la Bucinesi? Allora la Bucinesi? Siamo Bucinesi! Cosa è? Le bocci eh! Sì! Sì! Più forte! Siamo Bucinesi! Siamo Bucinesi! Rispetto! Sì la fine del centrocampo! Voi rimanete lì e dopo fate... Grazie. 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 Riccardo, c'è Riccardo. Lasciamo, lasciamo non mollare. Più forte. Grazie. Spora! Spora! Af bure! Siamo grazie. Dai 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 dai. Ciao, ciao, ciao. Li racista. Dai, 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 dai. Grazie a tutti. 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 Ok. Lorenzo Magini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno. Un, 2, 2, 2, 3,... Allora, intanto, la regionale, e questo è già un grande passaggio. Già come ieri, questa è una testa, è stata, vi voglio dire che provo a dare il meglio di muovere, e poi si parla, e poi si parla, e poi si parla, e poi si parla. De Masi Daniele, accompagnatore. Jacopo Lucido. Lorenzo Sabatini. Angela Neva. Lontarle. Masi Quinti. Zappia Carino. Cristian Marucci. Metti Luciano, mister. Vanni Camerlengo, accompagnatore. Alessandra. Rocco Trinchini. Davide Amigo. Vannis Camerlengo. Attemo Danisi. Simone Benocci. Alessio Vitale. Ci paga una piccola silenzione. Squadra. Morio Sedo. Voce. Più forte. Morio Sedo. Chi siete voi? Morio Sedo. Morio Sedo. Morio Sedo. Eeeh. Bellaria, bellaria. Eeeh. Dopo, dopo. Nome. Filippo Colombini. Mirko Filippeschi. Simone Badalas. Matteo. Fiorentini Ranieri. Matteo Laguerardi. Mattia Misiti. Matteo Liderio. Cassiano Mattia. Matteo Di Marco. Lossandra Sederio. Alessandra Sederio. Ambrosio Sormani. Fiorentini Gabriele. Dani Mascio. Alex Donati. Massimiliano Desiderio, il medico della squadra. Romboli Daniele. Bertini Leonardo. Alessio Sormani. Pallucci Marzo. Maffai Giovanni. Andy Camillo. Filippo Monti, allenatore. E i palloni. E il pallone con la Sederio. Allora che squadra? Belaria! Olè! Oh, più forte! Belaria! Olè! Cappuccini! Oh, ieri cantavi. Che cazzo devi cantare? Aernista Hensio. Quina zarta uk il? Quina zarta anderer da un? Quina zarta è il da un? Bello! Grazie. Grazie. Passate più sotto, salutate i genitori, passate sotto, salutate i genitori, sotto dai, dai. Passate tutto, piano, piano, piano. Uno, due, tre, passare! In'prevena, la paura, la mia parola. e io? salva ciao ciao bella zio bella zio fareci il primo piano ok via Giovanni Pietro Lorenzo Francesco Lavacchini Fabio 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 Francesco Riccardo che squadra siamo? Saviero oh ora si ora ora vai Filippo Nardini Edoardo Arrofazzato Lorenzo Giulio 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 Edoardo Saviero Ambroso Di Iago Cervari Alberto Cosimo Giacomo Vincenzo Fusco Francesco Vincenzo Squadra Che squadra sei? Siamo il bianco blu noi siamo il bianco blu mangiamo spaghetti e vinciamo scudetti noi siamo il bianco blu ok anche lui vai mettili davanti tanti sei io vieni qui vieni qui con sette agli tutti vai Luca Gabriele Edoardo Matteo Alberto Tommaso Alessio Andrea Maria Marco Rocco Pietro Marco Matteo Luca Gabriele Sebastian Samuele Francesco Alessandro Nicola Alessandro Alessandro Daniel Isaia Grande Isaia Alessandro Che squadra siete? Siamo Io non capisco Siamo noi Siamo noi 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 Che no accidenti Ma che sei la prega di saluto Oh, vai, vai Subito No, poi io si fanno No, no Dai, dai, dai Dai, dai, dai Dai, dai, dai Portiere Tira Tira Vai, Dario, tu, tu Lunga, lunga Lunga Dario, buttala fuori Oh Zitti, zitti un po' E lasciate giocare Porca miseria Oh, ma non ti guarda Oh, ma non ti guarda Se io ti dico Chiuro, passa Devi passare Porta, vieni Oh Bala 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 Oh Ma La sensibilità non indifferente. 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 In fondo alla salita troviamo anche la provincia di Pistoia con l'Olimpia Quarraza. e immagine coperta sempre per Pistoia per la provincia di Pisa abbiamo il bell'aria Cappuccini per la provincia di Prato Pietà 2004 ecco la Pietà che sta arrivando per la provincia di Siena il San Mignato e il Valentino Mazzola un applauso alle squadre grazie ecco che stanno passando i figuranti un altro applauso grazie grazie bravo grazie 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 Questa società ha contribuito particolarmente a questa manifestazione, a questa festa regionale dei sordienti a 7 e a 2. Farei un applauso e un saluto soprattutto al nuovo presidente di Udi Bionzoi, a tutti i genitori di Udi Bionzoi e a tutti i genitori di Udi Bionzoi. Ma che bello! Grazie a tutti. All'Unicoppe Firenze di Volterra, al ristorante Don Betta e poi tutti gli altri sponsor e ora non sto a legare perché potrei ascoltarmi di qualcuno. Un saluto poi alle istituzioni locali di Volterra, alla fondazione della cassa di risparmio di Volterra. Per finire, ma non da meno, quelli che stanno dietro le quinte, tutti i volontari, che veramente sono quelli che meritano un applauso più di tutti. E spero che l'ospitalità e l'organizzazione sia stata per tutti. Grazie a tutti, portese, ora vi lascio la parola al Presidente e un ringraziamento e un saluto a tutti. Grazie al Presidente. Naturalmente accompagnato anche dal predecessore Giacomo Santi, che è stato quello più importante per questa festa. Grazie Giacomo. Un saluto, un saluto e un applauso anche dal Presidente del Comune di Volterra, Lossi Simone. Abbiamo anche quest'anno il Presidente del Panathron, Paolo Gazzarri. Grazie al Panathron. Un saluto alla rappresentante del Consorzio Turistico di Volterra, Martina. Grazie a Martina e anche a Claudia per il lavoro svolto in questa fase della festa. Grazie, come ha detto appunto il Presidente Gonzoli alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra. Grazie a tutti e ringraziare il coordinatore regionale Paolo Maglini, il Professor Gabrieli e tutti i professori dell'attività di base per essere riusciti anche quest'anno a fare una festa così bella. Un'ennesima festa che continua a legare la prossima lega della festa del Lucino, che è stata domenica ancora sull'ambientà, per terminare poi a livello nazionale al Centro di Comune di Volterra. Voglio ringraziare l'Amministrazione Paolo di Volterra, voglio ringraziare il Valle di Cecena e la Valle di Volterra per la preziosa con la grazia. Detto questo ragazzi, fate un urlo se vi siete diventiti. Vi siete diventiti ragazzi? Sìììì! Bene, 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 bene. Mi raccomando, vedo che ci sono anche tanti territori. E vedo che una gara senza lo stipolo della vittoria non ha senso, però mi raccomando, quando i vostri bambini ritornano a casa, prima di domandare siamo vicino, quando freddo, chiedetemi se ci sono i miei piedi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.